Domani Nuoro scioglie il suo voto nei confronti della Madonna delle Grazie, cui la popolazione si rivolse nel 1812 in occasione di un'epidemia di colera che stava decimando la popolazione di quello che allora era un borgo di pastori e agricoltori. Da allora, ogni 21 novembre, i Nuresi, attraverso i propri amministratori comunali e i rappresentanti del rioni, donano un segno di gratitudine alla Madonna dei cerivottivi. L'epicentro delle celebrazioni sarà, come sempre, la chiesa di Nostra Signora delle Grazie, edificata nel dopoguerra attraverso l'input dei padri Giuseppini e con la collaborazione di tutta la cittadinanza. Un edificio di culto che è sorto a ridosso dall'antico santuario dedicato alla Madonna delle Grazie, che per secoli è stato il punto di riferimento del rione di Seuna. La cerimonia in onore della Madonna prenderà il via dal municipio con una processione che vedrà gli amministratori raggiungere la chiesa, dove il Vescovo di Nuoro, Monsignor Mosè Marcia, ufficerà il solene pontificale in onore della Vergine. E proprio durante la liturgia il Sindaco e la Giunta rinnoveranno il voto alla Madonna depositando nell'altare che custodisce il simulacro della Vergine i cerivottivi. Un momento emozionante che ha unito generazioni di nuresi e di amministratori che in questo modo rinsaldano ogni anno il legame tra il capoluogo Barbaricino e Nostra Signora delle Grazie. Una devozione che si estende a tutta la diocesi, come dimostra la grande partecipazione con la quale è stata seguita la novena. Domani pomeriggio, poi il simulacro della Madonna verrà portato in processione per le vie di Nuoro, un momento di grande intensità religiosa per coloro che si sono rivolti alla Madonna per chiedere una grazia o ricevere conforto.